ciao a tutti prima nell'art a tema natale parto subito stendendo due passate del p2 last forever nel pollice nel numero 110 dating time ora vado ad utilizzare lo 04 cupcake topping di essence della colazione love trends che è uno smalto trasparente con pagliuzze color oro e argento scarico molto bene il colore dal pennello e realizzo una france laterale arrotondata aspetto che assughi bene e ripasso lo stesso smalto per accentuare la france con il pennello liner di essence del nail art design set e acrilico bianco molto diluito realizzo una linea molto sottile alla fine della france mi raccomando ricordate che per avere una linea molto sottile è necessario dilire bene con acqua il colore acrilico con un dotter a punta sottilissima vado a realizzare dei tuà molto molto piccoli lungo la linea della della france fino a metà unghia però con un pannello a punta zero realizzo i fiocchi di neve parto disegnando una croce e poi realizzo altre due linee perpendicolari siccome il colore acrilico una volta asciutto diventa opaco per rendere il colore il disegno più visibile è necessario ripassarlo una seconda volta con lo stesso colore acrilico bianco e un dotter a punta sottile disegno la neve che cade la stessa da foro l'ho riportato sia sul dito media che sul pollice sicilio tutto con il mio solito top coat di cd essence e il beta argangel questa è la mia nera è l'artatena natale su entrambe le mani spero tanto vi sia piaciuta fatemelo sapere con un like o un commentino sotto mi raccomando iscrivetevi al canale se vi va ci vediamo presto con un nuovo video ciao ciao ciao